Una giornata di campionato spalmata su due giorni per le abruzzesi di Serie D. Perché al netto degli anticipi di oggi che riguardano Francavilla, che gioca con il Campobasso, e il derby tra Nero Stellati e Avezzano, domani si attendono risposte importanti dalle quattro compagini che scenderanno sul terreno di gioco. Innanzitutto la curiosità sarà vedere se la Vastese ha assimilato la sconfitta di Matelica con gli aragonesi che nell'eventuale rincorsa alla seconda piazza non hanno pagato Dazio, visto il contemporaneo stop anche della Vispesaro. Per la squadra di Colavitto trasferta non impossibile a Iesi, ma complicata dalle assenze. Mancheranno infatti, oltre a Chirillo e Viscardi, lungo De Genti, anche De Feo e Leonetti. Probabile che senza il bomber principe l'attacco sarà affidato al trio tedesco Fiore e Bittaie. Di fronte però la Vastese si troverà una Iesina capace di lasciarsi alle spalle un periodo no, durato otto giornate di campionato e spugnando il campo del San Marino, la squadra più in forma del raggruppamento. La squadra dobbiamo, secondo me, lasciare un po' di leggerezza mentale, lasciare da parte queste parole, queste frasi di obiettivi, obiettivi di salvezza, obiettivo play-off, obiettivo campionato, terzo posto, quarto posto. Il nostro obiettivo è non ripetere determinati errori, cercare di fare la prestazione per 95 minuti, perché poi il non ripetere gli errori, il non essere superficiale in determinate situazioni, fare la prestazione ti permette anche di portare a casa il risultato pieno. Quindi il nostro obiettivo deve essere questo, al di là del terzo, quarto posto, play-off e via dicendo. In cerca di riscatto anche il Pineto, che a Pesaro non può proprio fallire l'appuntamento. Le due sconfitte consecutive, peraltro in altrettanti derby, Pesaro e come è la posizione di Amaolo Vacilla. Al termine della gara con il San Nicolò, il patron Brocco ha chiesto una reazione immediata, ma l'impegno non è affatto semplice contro la seconda della classe. Trasferta da Agnone per l'Aquila, con il rosso-blu distanti solamente un punto dalla zona play-off, la squadra di Battistini è imbattuta nel 2018 ed ha appena regolato la San Giustese, proprio in ottica a spareggio di promozione. Sul neutro di Pineto invece scende in campo il San Nicolò, che dall'arrivo di Fabio Montani non sbaglia praticamente un colpo. In quattro gare, due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, ma a materica contro la capolista. Un'assenza per parte e causa squalifica. Nel San Nicolò mancherà Moretti, man of the match della gara vinta col Pineto sei giorni fa. Dall'altra parte invece, sempre per squalifica, non ci sarà l'ISPI. Fidi Ardenzi che occupano l'ultimo posto utile per la disputa dei play-off. Gare che inizieranno tutte alle 14.30.